Dopo tre anni eccezionali in Turchia con finali di Coppacev e un grande secondo posto in campionato con la maglia del Galatasaray, Nadia Centoni torna al Cannes, club con il quale ha ottenuto i suoi più importanti risultati. In Costa Azzurra la palavolista di San Concordio troverà un nuovo tecnico italiano, Riccardo Marchesi, e una squadra molto rinnovata rispetto a quella lasciata tre anni fa, dopo sette campionati e sette coppie di Francia, vinte consecutivamente oltre a una Champions League che la vide premiata come migliore attaccante della massima competizione europea. In Francia la Centoni, che vanta tra l'altro 315 partite con la maglia della Nazionale, è considerata come una delle palavoliste più forti che abbiano mai giocato il tralpe.